Siamo a Torino, Torino 4, Sampdoria 1, punizione di Polster, segnerà 3 gol, l'Austriaco mischia, lo stesso Polster riprende il pallone dell'1-0. Il 2-0 scaturisce da questa bella azione, Berggren si libera di un avversario, dal centro Ezio Rossi, spintosi in avanti in acrobazia, sigla il 2-0. Terzo gol del Torino, secondo di Polster d'autorità, questo diagonale di sinistro. E ancora l'Austria con la prima tripletta del campionato, si libera così del suo avversario diretto e infila il portiere Bistazzoni. La Sampdoria segna negli ultimi minuti di gioco, il brasiliano Serezo per Viali, si gira bene in area di rigore, un altro diagonale di sinistro.